Benvenuti nell'episodio finale di ShopEquip dove non ci sono novità perché altrimenti Ferenichi si arrabbia Certo, sicuramente, io so già che entrerò, che anche perfino nell'episodio finale avrei rovinato tutto facendo tutto senza di me Guarda, guarda dalla finestra, è tutto normale No, non mi freghi, poi già che ci sono delle barbabietole, anche quelle che prima non c'erano, vedi, indica che tu hai fatto cose senza di me Vabbè, la merce la dovevo vendere per andare avanti Non ti ascolto più, muto, zitto E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi Sì, sono Stef, e questo è G5 ma ShopEquip E siamo giunti all'episodio finale, ovviamente il nostro caro Stef ha farmato senza di me, come sempre Per preparare al meglio quest'ultimo episodio di ShopEquip Esattamente, è stata una miniserie davvero, davvero piacevole Abbiamo deciso di farla da 6 episodi, secondo me si poteva fare anche da 8 Però sinceramente stava iniziando a diventare un po' ripetitivo Esatto Quindi, secondo noi la durata perfetta per questa serie era 6 episodi E quindi oggi festeggiamo con l'episodio finale con un sacco di novità Allora, prima di tutto, prima di farti vedere il negozio senza nessuna novità Sicuramente Abbiamo gli skill points 820 Eh, vabbè, tantissimi Credo di aver giocato 3-4 ore tra un episodio e l'altro È stata una fatica incredibile, dovevo andare lì e inseguire ladri, druidi, maghi per venderli di tutto e di più Sono molto stanco, quindi spero che apprezzerai le novità Ho notato, ho notato, sì, ti ho visto farmare tantissime ore È faticoso dopo un po' Esatto, con tanta fatica, quindi sì, apprezzo almeno il tuo sforzo Allora, opla Cosa sono quelle cose? Quelle sono le frecce che ha messo il robottino da solo Ma perché le ha messe tutte? Non ha ben capito come si mettono le frecce Ti giuro che mi ha tolto proprio Concentrati sulla pianta, per favore Mi ha tolto la pianta perché ho detto che accidenti è No, bella la pianta, molto bella Ok Poi, opla Ha riempito un negozio di piante Beh, da una parte all'altra Opla Ma che c'entra Beh, guarda che fuori c'è la neve Beh, in effetti fuori è stagione, periodo di Natale Quindi dai C'entra e come Poi Altro albero di Natale Mappamondo Bello questo Vero? Questo è molto bello Sì, 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 sì E poi, opla No, vabbè Purtroppo Metterli in tutti è troppo Costano 5.000 gold l'uno Eh, vabbè, esagerati però Qualunque cosa vedi Qualunque cosa d'arredamento Costa 5.000 gold l'uno Almeno qui col Mappamondo Sembra ancora di più una scuola L'hai fatta apposta Bravissimo, l'hai capito Sì, sì, sì Qua perché qua c'è la catena del professore Viene qua nel Mappamondo E fa vedere Oggi andremo A studiare Capito? Esatto, esatto Manca solo la lavagna a cuore Perfetto Praticamente Se ti chiedi a che cosa serve Ok Aumenta dell'1% 150% come massimo Per ogni oggetto che metti Aumenti dell'1% Quindi 151 152 153 Capito? Ah, quindi gli oggetti servono A farli spendere di più Sì Ad accettare un prezzo più alto Perché entrano e fanno Oh mio Dio che belle piante Oh mio Dio che belle albero di Natale Quindi spendo tutti i soldi No, no, hai sbagliato Allora E' presente quando tu entri In un negozio di lusso Fai Eh, ma questo negozio è bellissimo Se costa 2 euro in più Ci sta perché sicuramente Avrà dei materiali migliori Non succede mai Non succede mai Io sono tirchia Cioè non spendo neanche 2 euro in più Quindi non funziona Certo che li spendi Allora, quindi Oggi dobbiamo andare A vedere diverse cose Partiamo Da una in particolare Dato che altrimenti Continui a chiedermela Per altri 10 anni La sto chiedendo dal primo episodio E mi ha fatto aspettare Fino all'ultimo Cioè, immaginatevi Mi ha fatto aspettare Fino all'ultimo Per vedere queste trappole E te lo meriti Sai che non so come si fa la trappola? Eh, manco io Non sto capendo Vero? Forse all'episodio finale Finalmente arrivano Ma non sappiamo Come È primavera Ma che bellini Fiorellini in terra Fantastico Che carini Guarda anche negli alberi Guarda la vedi Questa barra Sicuramente ti segna Anche quando si ricarica Allora disattiviamo I nostri robotini Un attimino Per vedere come funziona Per vedere come funziona Ma però Cioè Tacchete Tacchete È un po' una delusione Perché io mi aspettavo Una vera e propria gabbia Ma si forma secondo me No, io volevo proprio una gabbia Al centro del negozio Dove puoi portare E perché ci dovrebbe correre Dentro il ladro da solo Perché poi ce lo mettevi tu Capito? Dopo che lo beccavi a rubare Lo chiudevi in gabbia Come esempio per gli altri ladri Capito? Speriamo però che venga ingabbiato E alla fine non lo possiamo sapere Signorina Rubi qualcosa Guarda Oggi ha il permesso di rubare Per modo di dire Perché poi verrà ingabbiata Però ha il permesso La cosa che io in assoluto di più Voglio comprare questo G È lui Il campione Oh finalmente Finalmente Che costa 400 punti da solo Nessuno ruba Io non ho parole Che nessuno ancora ha provato a rubare Cioè Forza ragazzi Rubateci qualcosina al volo Così i consolini vedono la gabbia Anche noi finalmente la vediamo E siamo tutti felici Niente ladri Niente ladri Sarà che la primavera Rende tutti felici E hanno deciso di non rubare più nel negozio Cioè quando servono Vogliamo vedere le trappole Non lo fanno Sono proprio dei ladri disgraziati Allora Prima o poi riusciremo a vederlo Ne sono certo Quindi nel mentre Vediamo che cosa fa lui Buongiorno Allora Gli possiamo dare il nome? Allora Sir Posso mettere anche maiuscole? Sì Sir consolino Ok Ottimo Mi pare giusto Mi pare giusto Allora È maschio Poi possiamo decidere se è un guerriero Un ladro Un mago O un druido Un guerriero Dai I consolini sono guerrieri Io te lo dico Ok Guerrieri per tutta la vita Crea E adesso che fa E adesso che fai? E adesso che fai? Oh vabbè ma che è sta cosa? Allora praticamente noi gli diamo i soldi E lui va all'avventura Credo a cercare dei tesori Allora voglio investire su di te Sulla Sky Island Mi sembra molto bella 1300 gold Ma è una figata questa cosa Possiamo anche equipaggiare il nostro eroe Allora Probabilmente con le armi che creiamo Forse che compriamo Non lo so No le vedi Posso dare anche le pozioni Allora aspettate che provo a fare un ordine di pozioni un attimo Vediamo Gli diamo un po' di pozioni Forse anche qualche arma Ma che bello è giusto Vai spada e scudo Eh da guerriero equipaggiarlo un pochettino Allora gli diamo anche dei guanti E questo e questo Vai Vediamo un pochettino Guarda come ti trattiamo bene Ma non ci costa nulla Noi ormai siamo ricchi Signor campione Signor sic consolino Livello 1 Tieni Ok Ah e vedi 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 Tieni Tieni e tieni Bellissima questa cosa Bellissima Però perché non posso dargli anche le pozioni Vedi che non risultano Non so perché Forse perché è un guerriero E quindi non gli serve il mana giustamente Ok Allora Sky Island Boom 1300 gold Gold è partito Perfetto Speriamo trovi qualche bel tesoro Dai gli abbiamo dato anche un buon equipaggiamento Secondo me se la caverà bene E speriamo che qualcuno rubi prima o poi Non ti vogliono far vedere le trappole Cioè io le sto nominando dal primo episodio E non me le fanno vedere Lo so Lo so Una tragedia Non c'è meno gioia per me comunque in questi giochi E sto iniziando ad arrabbiarmi perché non c'è meno gioia per me Vabbè Sembra tutto contro di te Io comunque non perdo la fiducia Aspetterò fino alla fine dell'episodio Ok Magari non si sa mai Riesco a vederlo Magari arrivano anche i barbari No ormai sono curioso anche io Ne parliamo da una vita Ormai sono curioso Tiruno dei guerrieri Tiruno dei guerrieri Eh pacchete Ok Tiruno dei maghi Pacchete Tiruno dei druidi E mancano teoricamente soltanto i ladri Vediamo se abbiamo una bella missione Eh no è tosta È tosta È tosta Con tanti vero Se può provare Se può provare Allora quindi cosa abbiamo sbloccato Ok Vediamo un pochettino Allora 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 Cappello da mago Il cappello Ne ordino subito dieci Guarda Il L'elmo Da guerriero Ok La veste La veste non c'era vero No Non c'era Poi i guanti in plate Quindi un materiale decisamente più pesante Più potente Anche la chest E anche i pantaloni Quindi praticamente proprio l'armatura pesante sarebbe Esattamente brava Bravissima Come giustamente si dice a un guerriero Stivali pesanti Secondo me manca ancora qualcosina da mago Guarda lo spado a due mani Finalmente Che bello Io adoro lo spado a due mani Poi la staffa da mago Che non ce l'avevamo Ah e adesso ci sono le cose anche da druido No vabbè ma abbiamo sbloccato tantissime cose Pellite Le spalline Le spalline Oh mio dio proprio armatura completa Le spalline da druido No che belle ste cose Le spalline E i pantaloni da mago Ti dice Vuoi esagerare E esageriamo Dotto che è l'ultimo episodio Certo che si deve esagerare Però secondo me il robotino Non saprà dove depositare le cose Eh sì A voglia Guarda Ci sono rimasti 8000 gold Che tragedia Vai Sì Finalmente Finalmente Me l'hanno fatta vedere Proprio nel momento in cui Hai chiuso la schermata Quindi non è proprio Una vera e propria gabbia No Ma una specie di barriera Che li impedisce Di andare fuori Ok Esatto Io speravo rimanessero ingabbiati Anche io In bella mostra Però è stato bellissimo Allo stesso Finalmente Uh è tornato Ciao bellissimo Sì Allora Ci dice cosa gli è successo Sì Cosa tutto gli è successo Ma l'hanno pestato malissimo C'è un recap È stato steso C'è stato Se tu leggi tutto Il recap l'hanno pestato Un sacco di persone C'era molto forte Tante persone Te hanno fatto malissimo Allora Allora Non so Hai fatto dell'esperienza No Non ci ha guadagnato Mi sa proprio nulla Perché è andata talmente male Capito Che è andata proprio Suppongo di sì Però Forse non è che deve iniziare Prima da qualcosa Aspetta Lo equipaggiamo meglio Lo equipaggiamo tutto in plate È perché secondo me Più vai avanti Più sono difficili Capito Guardalo No vabbè che bellino Spada a due mani O ascia 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 tutta la vita Pam Tieni le pozioni Ovviamente Ok E manca qualcosa No mi sembra La cinta Ok vabbè solo lo scudo È ancora in legno Amico mio Io ti rimando a rifare La stessa missione Se stavolta perdi Non dico nulla Guarda è meglio Che non dico nulla Però aspetta Secondo me sono troppo difficili Dovresti iniziare Da quelle un po' più base Facciamo questa Eh per quello Non ha fatto esperienza Secondo me Perché sono troppo difficili Va bene va bene va bene Stiamo a vedere Stiamo a vedere E l'hanno pestato e basta Vieni tu Certo che è troppo difficile Poverino Poverino È andato lì a farsi pestare Guarda quante roba Mi voglio vendere Il robotino non sa dove metterle Tutte queste cose Adesso ti lancia tutto in terra E fammi licenze Ah penso se stessero rubando Mi ha fatto un infarto Ho trovato tutti all'improvviso Finita la giornata Ottimo Guarda cosa faccio La striscia qua Capito? Così ne possiamo vendere tanti Esatto Ci sta Ci sta Ci sta Perché li voglio vedere tutti Tacchete 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 E poi vorrei mettere Qualcosina per le spade Perché adesso abbiamo anche tutte le nuove armi Le vorrei vedere E lo so ma non abbiamo spazio Secondo me tipo una qua ci può stare Ok Cioè proprio arrangiandoci Ne peggio modi Ne peggio No qui non si può costruire Non so perché Non so bene perché Ma non ce la fa fare Allora vediamo nella zona della scuola Allora una qua ci sta Alla grande Dietro la cattedra Lì Esatto Ne metti qualcuno là E pazienza dai Poi si sistema Se riusciamo a espandersi Dai una figata pazzesca Secondo me Adesso il negozio è bellissimo Cioè guarda anche tipo qua Tutti gli elmi Non riesco a passare da nessuna parte Dicevo Vedi tutti gli elmi messi così È una figata No è molto bello Stra bello Molto Adesso sta diventando davvero piccolo Cioè prima mi sembrava gigante Ora non avevo più spazio Dove metterlo È che tanto alla fine I clienti che entrano Sono sempre gli stessi Quindi alla fine Sì sì certo Capito non serve neanche troppo A avere tutta sta roba da vendere Secondo me Vabbè la dovevamo vedere Era la nostra novità Infatti abbiamo fatto per quello Perché altrimenti secondo me è inutile Ero è Torno da noi Guarda E che bellini che siete Le sta bellissimo Perché ridono Sono fantastici No che belli Le sta davvero davvero bene Le vorrei vedere col set completo Perché devono essere una cosa troppo fantastica Te lo dico Anche lei Bellissimo Poi ridono Fanno troppo ridere in automatico Perché hanno quella faccia Vabbè Guarda anche le spalline Piano piano iniziamo a vedere tutto equipaggiato Quindi vediamo quanto è figo Hai notato che stanno comprando tutti i funghi I funghi? Sì Non so bene perché Oggi è giornata funghi Uuuuh Livello 1 ce l'hai fatta stavolta Sì guarda Ecco manda Vedi Allora ha ucciso un mago di fuoco Esatto Ok poi ha ucciso un mezzo drago Un mezzo drago Larva Quindi una larva di mezzo drago Un altro mago Poi ha ucciso un altro mago E poi ovviamente schiattato Ok Ok Però stavolta Vedi avevo ragione La missione era troppo difficile per lui Questa volta è andato meglio Buona sapezi Bravo ser consolino Allora un attimino le diamo delle pozioni e lo rimandiamo Però mi sa che questa volta proviamo con la Sky Island Dato che l'abbiamo equipaggiato meglio Esatto Quindi forse stavolta ce la fa Dal momento in cui ha fatto anche esperienza sarà sicuramente più forte Però scusami Ok noi lo abbiamo pagato Lui ha fatto la sua esperienza Tutto bene Ma a noi cosa A cosa serve Io non l'ho capito Non ho proprio capito Cosa ci dobbiamo guadagnare Perché io pensavo portasse tesori dall'avventura Non è che forse deve riuscire a finirla l'avventura E quindi non deve essere stesso Ma deve arrivare alla fine del posto Sinceramente non lo so E allora proviamo a mandarlo nella Mountain Range Ok dai questa ce la fai per forza Esatto Quello che pensavo io Non lo so Ordine tra quanto arrivi Dai che deve partire il nostro campione È tornato Livello 2 Ciao bello Allora vediamo cosa è successo Aspetta 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 Allora praticamente Combatte 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 Ammazza Non so bene cosa Però fa 27 esperienze Dice che ha ammazzato una cosa strana E sale di livello Nei boschi Guarda qua Dice che ha raccolto una spada Scende Ammazza un'altra E ha raccolto una pozione di vita Scendi Ammazza E ha raccolto un tom Quindi un libro Ok Ok Un altro libro E dopo di che è stato stesso Quindi no Non deve finire la missione Ok Non credo si possa finire proprio Ok quindi deve semplicemente ammazzare più mostri che può nei posti secondo me Ok ma le cose che raccoglie? Secondo me qua No Ma ci prende in giro? Io non capisco Allora aspetta Proviamo a leggere Proviamo a leggere Allora Dove sta? Champion Ok E tu lo mandi Allora L'idea e gli oggetti E cambi il nome per un costo E leggi cosa è successo Ok E quindi E quindi a che serve? Ma È un po' strano Perché io pensavo ci portasse qualcosa di particolare da vendere poi nel negozio È la cosa più logica È giustamente sì Ma Invece no Non lo so Non ho parole Boh Vabbè Vabbè Pazienza Dai almeno è carino Vedi là così È carino Ma si ruba le cose Se le porta a casa Noi li paghiamo le spedizioni E lui le usa per se stesso Allora Lui va solo a pestare Non ne frega nulla Va solo a pestare in giro Ok Viva il Natale È un nuovo addobbo Di questo villaggio Che dici? Sono proprio senza scrupoli Quei robottini eh Sono terribili C'è niente davanti a un albero di Natale Si calma Ne frega nulla Non ne frega nulla Cattiveria pura Comunque Stavamo frugandone la spazzatura Perché eravamo annoiati Sì È una cosa bella Frugandone la spazzatura Esatto E abbiamo trovato questa Flower Staff Che credo sia La staffa da druidi Perché appunto è fatta tutta Con i fiorellini Se vedete quanto è carina Sì esatto È troppo bellina E quindi è super fantastica Non la metto a vendere Perché tanto nessuno la compra Perché dovresti sbloccare il tier 2 Però Abbiamo questo scudo Che avevamo trovato In questi ultimi episodi Sempre nei cestini Che secondo me Non possiamo venderlo Ma almeno possiamo darlo al nostro eroe Per avere uno scudo più potente Ah sì assolutamente Assolutamente Perché in effetti È ancora lo scudo di legno schifo Esatto Che ancora non è tornato Sto ancora prendendo botte Poveracci Lo stanno pestando malamente Stavolta Eh sì Secondo me non torna più Te lo dico Dai su Non torna più Torna da noi Mi hai fatto fuori una missione Troppo difficile Abbiamo uno scudo per te Di scappare per sempre Ma non è giusto Vedi questo qua vorrebbe le cose da ladro Eh ma non ce li abbiamo Non ci sono ancora arrivate Non c'è spazio tanto Ciao bellissimo Allora Gli è andata malissima infatti Sì Gli fai fare le cose troppo difficili Poveraccio Tieni questo nuovo scudo Guardatelo Eh ora sì Ora sì Che sei davvero bello Sei proprio Felice Un guerriero valorosissimo Direi di fermarci così Grazie mille a tutti quelli Che ci hanno seguito Fino all'ultimo episodio Di quest'altra miniserie Che abbiamo terminato Speriamo che l'avete apprezzata Quanto l'abbiamo apprezzata noi Ovviamente Probabilmente Più che ovviamente Ovviamente Non so cosa devi dire Probabilmente ma ovviamente Faremo una nuova miniserie A breve dobbiamo giusto scegliere il gioco Magari nel tempo in cui uscirà questo video Ovvero sabato Mettiamo anche un sondaggino Perché abbiamo già in mente Qualche giochino interessante Che si potrebbe portare E speriamo quindi Di portare subito Una nuova miniserie A sostituire questa Perché altrimenti Avremo un vuoto nel cuore Che Esatto Deve essere riempito Con qualche altro Bellissimo gioco E quindi ci fermiamo così Grazie ancora per chi ci ha seguito Fino alla fine E ci vediamo domani Spero che se vi riuscite Se ci ha giocato Scendoci un bel like E se la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao